E' sicuramente il modo in cui avrebbe voluto festeggiare un pranzo con i più piccoli, con gli ultimi, a capo delle tavole imbandite nella cappella del Santo Rosario, la sedia dove si poggiava per pregare in chiesa, come a dire che Don Franco Fedullo è ancora presente. Noi diciamo che è ancora qui e quindi celebriamo la sua festa di compleanno, perché è la vera, perché è la nascita al cielo, cioè il giorno della morte, è la vera nascita e quindi è un compleanno. Le feste di compleanno si celebrano e si festeggiano con gli amici. I primi amici di Franco, si sa, erano i poveri, erano i piccoli e quindi sono i primi a essere stati invitati. In questo momento in cui lo festeggiamo con un'agape fraterna, cioè condividendo un pranzo insieme, è bello poterlo fare, non solo nel suo ricordo, ma anche sicuramente con la sua presenza. Noi metteremo anche una sedia, la sua sedia, quella su cui si sedeva per pregare in chiesa e su quella sedia noi sappiamo che c'è anche lui a condividere il pasto con i suoi poveri, con i suoi amici. Suggestiva la cornice dove sono stati invitati a pranzo 64 persone, una parte dell'antico refettorio del convento dominicano che sorse sul finire del 1200, concesso nel 1631 dai domenicani alla confraternita del Santo Rosario. Inizialmente quella che adesso è la cappella della confraternita del Rosario, prima era la foresteria del convento, quindi probabilmente qui si sarà anche consumato qualche pasto già nei secoli passati. E ora poter fare questo momento con i piccoli, che come diceva Don Franco, il piccolo è il grande, quindi con i grandi agli occhi di Dio, è significativo anche in questa cornice così, tra virgolette, ricca che ospita, diciamo così, i grandi di Dio.